Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Soluzioni PC oggi vi faremo vedere come sostituire l'hard disk del portatile nello specifico il nostro modello è un MSI Megabook M670 allora, l'operazione è molto semplice per tutti i portatili a meno che il vostro portatile non sia di quei modelli in cui non c'è lo sportello per l'hard disk però la maggior parte dei portatili ce l'hanno ci servirà un cacciavite a stella e immediatamente andiamo a rimuovere le viti che tengono fermo lo sportello dell'hard disk nel nostro caso si può vedere che lo sportello dell'hard disk è quello con la scritta hard disk drive rimuoviamo le viti dopodiché con un altro cacciavite ma potete farlo anche a mano forziamo lo sportello piano piano in modo tale da non rompere i gancetti e così accederemo al nostro hard disk una volta aperto lo sportellino ci si presenta davanti una linguetta che andremo a tirare verso l'esterno e solleveremo l'hard disk in modo tale da estrarlo ed ecco l'hard disk che è uscito una volta fatta questa operazione dobbiamo solamente rimuovere il pezzo di metallo che tiene la linguetta e girando l'hard disk rimuoviamo queste due viti che tengono ferma la lamella di metallo fatto questo è tolto il pezzo di metallo che come potete vedere ha solamente la linguetta e serve più che altro per fare spessore e tenere fermo l'hard disk possiamo mettere il nuovo hard disk ok io utilizzerò sempre lo stesso hard disk perché non devo sostituire hard disk ma voi fate finta come se questo fosse l'hard disk nuovo andiamo a fare semplicemente l'operazione contraria risaldando con le viti la lamella di ferro dove c'è la linguetta e delicatamente andiamo a inserire di nuovo l'hard disk nell'alloggiamento in questo modo poi facciamo una lieve pressione verso il basso e vedrete che entra andiamo a richiudere delicatamente sempre delicatamente lo sportello in modo tale da non rompere i gancetti esercitiamo una pressione attorno ai bordi e poi riserriamo le viti ecco fatto un'operazione molto semplice che si può fare nella maggior parte dei portatili detto questo vi saluto se ci sono dei dubbi o delle cose che non avete capito potete scrivermi nei commenti sotto ciao ciao